questa è la prima il tempo scade tra dieci secondi vabbè me sto quittando cioè rimasto con il vendito di vita questo è che c'ha l'agog vengo da far cry ultimo nemico rimasto i difensori hanno eliminato l'aggianto l'aggianto non posso morire così Iiii a chi è avvisato rai c'è A Sacramento C'è l' breve c'è l'in servit Aggiore Aspettare Ma la cosa Ghi non soh la non c'è il gioco non c'è il gioco non c'è il gioco ma ho accolto quello di cucina se vuoi se vuoi non c'è il gioco bravo sto ricaricando non è rimasto bravo vanta vanta coprite raga vai vai disinnesco bomba avviato proteggete il disinnescatore non sono difeso non c'è 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 abbiamo il disinnescatore rimangono 15 secondi rimangono 10 secondi il difensore è rimasto mancano 5 secondi difensori occhio la squadra d'attacco ha trovato una bomba resta solo un operatore alleato ultimo attaccante rimasto in vita ultimo attaccante rimasto in vita squadra d'attacco eliminata missione completata ricarico ultimo attaccante rimasto in vita ultimo attaccante rimasto in vita il freddo si sta a coprire che si fiega che si fiega oddio oddio che sto ok Occhio, la squadra d'attacco ha trovato una bomba